Santità, desidero esprimerle la nostra filiale gratitudine per averci concesso l'onore di questo incontro in occasione del 75esimo anniversario dell'Istituzione dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano. È un momento che viviamo con emozione e con gioia. Nel 1945 un decreto del Ministro dell'Interno dell'Epoca istituì l'Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza di San Pietro, antesignano dell'attuale Ispettorato. La sua fondazione venne a suggellare l'intenso rapporto collaborativo tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Le vicende della sua storia amministrativa non ne hanno mai mutato l'originaria vocazione, quella di essere primariamente custode della Santità vostra sul territorio italiano e di vigilare sul sereno svolgersi della vita nei luoghi sacri della fede cattolica. Una presenza operosa, gratificata dalle sue stesse parole, Santo Padre, che l'hanno voluta benevolmente definire, discreta, quanto attenta ed efficace. L'impegno dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano si ispira ai valori di una prossimità vissuta senza risparmio e con autentica partecipazione. Il 75esimo anniversario della sua istituzione coincide quest'anno con l'emergenza globale causata dalla diffusione di una terribile pandemia. Siamo stati costretti a vivere sofferenze e limitazioni mai conosciute prima, affrontate con grande compostezza e disciplina. Il coronavirus ha colpito duramente molte famiglie e non poche hanno battito purtroppo anche la scomparsa di loro congiunti o amici. La violenza del virus ha falcidiato vite umane anche tra le forze di polizia, privandole di preziose risorse e soprattutto di straordinarie persone. La sprezza del momento non ha però frenato il loro slancio, l'attività di controllo a tutela di un'ordinata convivenza civile e proseguita incessante con equilibrio e senso di responsabilità. Le forze di polizia sono state al fianco dei cittadini, ponendosi al loro servizio, in particolare delle persone più fragili e di quelle in difficoltà. Il sistema di sicurezza nazionale si è rivelato all'altezza dei gravosi compiti imposti dall'emergenza sanitaria, confermando ancora una volta la sua indiscussa validità ed efficienza, modello ed esempio anche per altri paesi. In un contesto così drammatico, la sua paterna testimonianza dei valori evangelici ha rappresentato, Santità, una luminosa speranza per il mondo. Si è elevato dal suo alto magistero l'invito a riscoprire le ragioni della collaborazione tra i popoli e di solidarietà verso gli ultimi. Un richiamo che ella propone con istancabile determinazione. L'esperienza della pandemia ha evidenziato le difficoltà sociali ed economiche che allungano la loro minacciosa ombra sul futuro. Ma le misure finanziarie decise dall'Europa, salutate come una poderosa e potente linfa, aprono scenari incoraggianti per la ripresa dell'economia continentale. Dovremmo farne un uso sollecito e lungimirante, anche per combattere vecchie e nuove diseguaglianze che finiscono con il lacerare il tessuto sociale, civile, e provocarne un avvilente decadimento. Curare il disagio delle periferie, di quelle geografiche e di quelle dell'anima è uno sforzo che non possiamo rinviare e né possiamo lasciare incompiuto. Il bisogno di coesione e di unità, di ridare centralità alla tolleranza e al rispetto dell'altro, deve guidare la mano di chi regge la cosa pubblica, esortandolo a ricacciare pulsioni egoistiche e ad agire con senso comunitario. Ogni istituzione, nazionale e sovranazionale che sia, è sempre parte di un insieme. Nessuna può mai bastare a se stessa, come nessuna può essere lasciata da sola. Ma se è vero che la diversità è ricchezza, è altrettanto vero che esiste un solo pianeta e una sola umanità. Non possiamo dimenticare, in un frangente così gravido di domande, il dramma dell'immigrazione. Nessuna coscienza può ritrarsi di fronte alle sofferenze di un essere umano, alla disperata ricerca di una via di salvezza e che per questo è disposto a mettere in gioco la propria vita. Lo sforzo di accoglienza di cui il Paese si sta facendo carico è un'eccezionale prova della sua grande generosità, che riesce, infine, a prevalere sul mare nero dell'indifferenza. In questo momento della storia, in cui si richiede come non mai capacità di dialogo e di mediazione, siamo ben consapevoli del ruolo prezioso che la comunità ecclesiale ha svolto e seguiterà a svolgere sul piano culturale, educativo ed assistenziale. È il nostro proposito lavorare insieme per la costruzione di una società più giusta e solidale, fondata sulla fratellanza, come è la santità paternamente ci sprona a fare. Solo così, nella laicità della nostra missione, di donne e di uomini dello Stato, possiamo ritrovare le radici profonde della dignità di ogni persona e il senso di un'umanità rinnovata. Santità, nella ricorrenza del 75esimo anniversario dell'Istituzione dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, desideriamo rinnovare i sentimenti di vicinanza e affetto, insieme alla più ferma volontà di continuare ad essere presidio di sicurezza e di pace. Grazie. Grazie. Grazie.